Armando Romano il coordinamento regionale di Italexit per l'Italia ad Avellino per questa presentazione intanto una tappa importante quella erpina per voi. Allora innanzitutto la provincia erpina per noi è fondamentale e oggi siamo qui per presentare i nuovi coordinatori il responsabile dell'organizzazione e il tesoriere provinciale. Italexit in questo momento si sta ramificando egregiamente in tutta la regione Campania e con questa tappa erpina praticamente mettiamo un'altra bandiera a quello che è il processo di radicamento del nostro movimento in tutta la regione. Importante il tesseramento, importante l'organizzazione del movimento sul territorio ma a livello campano che aria tira per Italexit? Innanzitutto a livello campano abbiamo il vento in poppa, fortunatamente ci sono parecchi aderenti in questo periodo e dobbiamo solo gestire le nuove forze che stanno entrando in questa nuova realtà tra cui anche parecchi amministratori locali e vi annuncio che nei prossimi giorni ne vedrete delle belle da questo punto di vista.